C'è sempre una cantina, un garage, un locale di fortuna nella storia di tutti i gruppi musicali. Alcuni poi hanno spiccato il volo e sono diventati Beatles, Led Zeppelin, Genesis, U2, altri invece sono rimasti lì. Ma per tutti rimane la medesima origine. Tutti hanno iniziato così, suonando per quattro gatti, da emeriti sconosciuti in semideserti locali. Un'origine che accomuna tutti dai giganti della musica ai liceali sotto casa. Magia della musica. Questo vale anche per la storia dei gruppi musicali nati nella scena fanese tra gli anni 50 e 60 sull'ondata beat rock d'olteoceano o d'oltremanica. E che cercavano la propria strada come il gruppo nel quale militava Alfredo Pacassone insieme al fratello Giorgio, Tebaldi Gianfranco alla batteria, Franco Giuliani al basso e in seconda battuta poi Bruno Bini che proponevano il loro beat jazz. Un libro che in qualche modo, rovistando un po' tra le documentazioni e le fotografie che mettevo a posto a casa, ho ritrovato delle immagini che avevo messo via nel tempo, magari senza rendermi nemmeno conto. Erano tante le cose, dico perché non organizzare in un modo un po' organico per quello che sarà possibile una piccola documentazione su questa esperienza che è praticamente uno spaccato della vita popolare nostra fanese, è particolarmente dedicata alla musica. Abbiamo iniziato questo viaggio che ci ha portato fino ad oggi a chitarra amore mio, ecco. Quindi varie vicende che in sintesi nel testo si rappresentano e poi dopo da altre formazioni fino alla creazione del laboratorio ritmico musicale che è un po' la radice di questa vivacità creativa della fano musicale. Questa sera alle 21, poi per chi vuole fare una full immersion nello strumento principe del rock, la chitarra, va in scena all'anfiteatro Rastat Chitarra Amore Mio, dodicesima edizione della rassegna nazionale Musicisti Amatoriali, con un ospite internazionale d'eccezione, Gary Stewart, collaboratore tecnico di Beatles, Led Zeppelin, Jeff Beck e The Shadow. Questa è una rassegna che parla appunto di questo amore per le sei corde. L'amore per le sei corde, l'amore per il gruppo inglese dei Shadows, uno strumento fondamentale che sta tornando dopo tanti anni dalle tastiere che ci hanno rubato un po' il posto. La chitarra è fondamentale, assolutamente.